Aspetta SPIM! È stato benissimo! Mamma mia! Da lontano! Vieni, 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 vieni Questo è stato fantastico! Io non avevo capito quello che volevi fare, non avevo capito! Ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph e che si giochiamo a venerdì 13 E oggi siamo qui con questo nuovissimo episodio Con questa idea un po' folle di Steph Lui mi ha chiesto Vediamo se riusciamo a vincere un game Usando solo i coltellini Io dico di no Vediamo cosa ne pensate voi consolini E vediamo se ci riusciremo Il vantaggio è che loro non lo sanno il mio piano Quindi io posso fargli paura tantissimo Fare così Farla stancare Farla panicare Devi girare intorno alla macchina Signorina Mi sta avendo voglia di dare sta sberla Che c'è davvero Lui sta pensando Con quella lancia ti viene ancora di più Da darle un colpo in testa Tipo shbim Eh, paura, eh Hai paura E adesso ora dove corri? Guarda, guarda, inizi a inciampare Inizia ad avere un sacco di paura Ok Adesso tirare un coltellino è più facile E uno è andato Ok Ok Che prova fa? Allora No, 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 no Allora Dimmi il suo nome Scusa, un attimo Io qui ho i miei post-it Dimmi il suo nome Che lo appuntiamo Ma che adesso è scappato via? No, 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 cercamela nella lista Perché io me lo appunto E sarà la prima a morire Queste cose non si fanno Tu non la stavi attaccando Lei ti ha buttato a terra Tu sei svenuto come un colpo Ma sì che lo stavo attaccando Perché ho fatto proprio Oh, questo mi vuole sparare Certo, Steph, che voglio il suo nome Cioè, io non ho Io non lo so, Steph Perché quando noi giochiamo Gli animatori Counselors Troviamo tutte le persone Che fanno schifo E si fanno uccidere Come niente Quando tu giochi Jason Li trovi tutti bravi Tutti che sanno giocare Vabbè, questo sinceramente Mi ha sparato Che manco voleva entrare in casa Che ne ha sprecato Soltanto un flare Ma Ma che stava facendo? Hai risposto Ok, bravissimo Bravissimo Aspetta, aspetta, aspetta Quanti ce ne vogliono secondo te? Tre, quattro Ho tre o quattro Però credo di averli fatto Di quattro cade Io mi sa che li ho fatto Dando spaccando la finestra E mi dispiace tantissimo Cioè, non volevo fare i pedani No, no, non ci dispiace Non ci dispiace No, no, a me dispiace Però stava facendo il pazzo Cioè, che cos'era quella Quella sua mossa Non lo so Non lo so che stava colpendo Affacciati una sì minuti Dobbiamo dire una cosa Affacciati alla finestra, amore No, Steph Non c'era bisogno Di cantare stonatissimo Questa canzone Però ci stava la grande No, ci stava malissimo Torniamo all'altra macchina Perché continuamente Dobbiamo controllare Che non scappino No, certo Ci manca solo che scappino Esatto Ok, sono andati all'altra casa Ok Sfrutto questo Per muovermi più veloce E andiamo a vedere Cosa fanno da queste parti Buongiorno Salve Sì? Sì? Ti vogliamo vendere qualcosa Questa è quella Che avevo già colpito Sì, sì, sì Quindi questa potrebbe essere La nostra prima vittima Ma se si è curata Ho visto il sangue Ho visto il sangue Ah, ok, ok Il sangue non rimane Se ti curi Uuuuh Questa faceva male Caro mio Faceva male Ok Non ti ho neanche notato Hanno chiamato Fari è arrivata la polizia Mi sa Non lo so No, Steph C'è il muro Fai attenzione Quanti ce ne vogliono ancora Scusami Non lo so Dammi conferma Aspetta Muore? Ok, quattro Fere, a me è sembrato Di aver sentito La polizia Avevo ragione Aspetta 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 Polizia Qui non va bene Ma è scappato qualcuno? No Ok Vivo, vivo Ok, ok, ok Poi tra quelli che lasciano il game Quindi non è che sono Allora Ora come faccio, Fere? Vabbè, se loro mi vedono Gli viene paura, no? Sì Ok Questo gli viene un infarto Boo Boo È quella di prima La devi uccidere No, Stef Nei pochi Nei pochi Come si può fare? Aspetta Così teoricamente Si spaventa Ok E infatti Si è spaventata Ok Però Stef Hai solo due coltellini Non ce la fai Non mi vuole picchiare Cosa vuoi fare? Aspetta Vai Oh Ma c'è solo un altro Non basta È sicura pure Ma io li lo rifaccio No, no, no Allora No, 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 no No, non puoi lasciarli andare Eh Devo Non posso usare i coltellini L'ho accettato Mi sta prendendo in giro? Secondo me sì Questo è troppo Tu non torni a casa Tu non torni a casa Ciao bella Ho perso Ho fallito Ma tu a casa non torni Prendiamo coltellini Allora Stef Anzi che cantare Bisogna dire delle cose molto importanti qui Allora abbiamo capito che è possibile secondo me Ma è molto difficile Specialmente perché i coltellini nello scorso game Hanno scarseggiato parecchio Quindi secondo me adesso Tu sì devi preparare un po' delle trappole Per non farli fuggire Ma ti devi armare di più coltellini possibile Ce la devi scarse Ebbene ma Cioè tipo adesso io sono qua Ok Non so bene perché Ma ci sono pochi coltellini Come se il personaggio che ha tanti coltellini di base Poi ne trova pochi Allora scusa Ne prendiamo un altro E li prendiamo tutti in giro Eh non lo so In ogni caso Io spacco molte finestre Così se vogliono passare Si fanno danno Sfondo anche un po' di porte Ok Così diciamo che hanno Anche delle case in meno dove rifugiarsi Assolutamente sì E vediamo un po' come va così Comunque Se io uso i sensi Mi fa vedere dove sono i coltellini Quindi Li posso cercare Al momento Non ho sette Che non è male In più le trappole Secondo me diciamo che non siamo messi malissimo Adesso andiamo a vedere se c'è qualcuno magari in questa zona Buongiorno No 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 Forse nella casa Vediamo Penso stiano dietro Penso stiano dietro Allora controlla bene le case Perché ho controllato che negli angoli delle case si trovano sempre i coltellini Steph Quindi devi fare molta attenzione Sì un attimo Perché adesso metto le trappole Eh dobbiamo essere più Come si dice Più tecnici Esatto Non è una cosa di velocità È una questione No è una cosa di vedere se ci riesci Esatto Vediamo Allora Qua non vedo coltellini per adesso E comunque suono un pochettino di finestra anche qui Quello è sempre bello Che essendo vicino al Alla macchina Qua si rifuggeranno di sicuro E se si trovano alla porta aperta Sono cavoli loro Però non ho pensato Ma che problemi ha sto Gesù Che ha spaccato le porte e tutto il campeggio Vabbè E non posso fare altro È normale Bene Hanno già acceso un'auto Ma questi sono fortissimi No 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 Almeno spaccagliela eh Cioè non dico 10 Sì Devi spacca Allora Perché sei scesa? Uno Ok Per iniziare a fare amicizia Ok ho sbagliato a tirarli Due Per fare ancora un'amicizia migliore Poi cosa vuoi fare? Guardi Ti tiro anche fuori così Non ti posso ammazzare Ma nemmeno Ti acciolino il suo spavento Che davvero ne basterebbe la metà Adesso ti colpiscono Ok Vai picchi alla tua amica Che in effetti anche questo vale Grazie, vai, continua Bravissima, sì Di più, di più Ma non li possono più uccidere Il problema è che i giocatori non possono più uccidere Gli altri giocatori, sarebbe stato molto... Ma sta qui perché non è indebolita dai miei coltellini, scusami? Non lo so Cioè, la vedi? Sì, sembra tornata normale Cioè, tiro caramelle e io non tiro coltellini Evidentemente sì Allora, sì, signorina Cioè, ma... Ma poi... Togliti In un game normale Ok Cosa sta facendo? No, perché... Oltretutto gli altri due Stai guardando me in diretta e sa che sto facendo un video Capirei, guarda Ascoltate, ascoltate Secondo me se l'hai meritato Io la lancio Poi nel caso datemi una in meno ammazzata Non me ne frega nulla Non puoi far... Anche questa se lo meriterebbe È ferita però, eh Brava Continua Continua così Bravissima Vai, si sta ferendo da sola nelle finestre Quindi se le tiri coltellini la uccide Esatto Comunque dai, quella la contiamo come... Comunque essendo... Com'è scappata dai Perché non valeva proprio Eh, vabbè, però ha esagerato Allora, anche a me ha fatto venire nervoso Ma non voleva lanciarla dalla finestra Cioè, sottolineare questa cosa Che non è correttissima Eh, vabbè, va bene, va bene Non ho resistito Aspetta Spiii È stato benissimo Mamma mia Da lontano Non me l'aspettavo Io pensavo la ferissia e basta E la vedo boom Eh, no, gli avevo già fatto tanto danno È stato benissimo Allora Buongiorno Salve Sì, sì, vengo anche io Vengo anche io Sì, faccio un video Come si sta da questo? Dai Che persone poco amichevoli ci sono qui In questo campeggio Ha ragione poi Jason Essere sempre arrabbiato Ha ragione a volerli uccidere Perché se lo meritano Lo so Se lo meritano Io torno qua perché siete prevedibili Siete prevedibili No I coltellini non li posso mancare Ce ne rimandano solo tre, Steph Lo so, Fere Però qua ci divertiamo Perché loro Cioè, cosa fanno adesso? Spacca la macchina Spaccala di nuovo Non la prendi spaccata Non posso All'indietro, non può Cosa? Ma dovrei bloccarla, Fere È un bug questo Oh no Non so se la blocchi Mentre loro camminano Allora, si sono schiantati Prendono danno schiantando, sì? Non lo so Aspetta, aspetta, aspetta Portiamo C'è da dire Perché non posso Dai, no, vabbè Questi qua stanno facendo tutto da soli Metà del lavoro Cioè Sì, sì, sono dei campioni Si schiantano Aspettali, eh Guardali, guardali, guardali Guardali, guardali No, voglio godermi È divertente Perché è davvero bello Questo game è strabello Sì, sì Ok Fantastico Adesso si rischianta contro qualche palo Vai Perché non distruggi l'auto, però? Ecco, grazie Vai, vai Continua Me la spacco più volte Continua Distruggigliela Ok Uno è scappato Ok Salve Buongiorno Se ne voglio altri chiedi, eh Sono gratis Cioè, non sono gratis In realtà ne ho pochi, però Devi continuare sulla stessa Perché altrimenti non la uccidi, secondo me Lo so Ne hai solo una Infatti è feritissima Se non la manco Mi sa che questa è morta Altra uccisa Vedi che ben organizzati Si riesce a far Che poi era piena di cure Perché non sei curata? Aveva una cure Non lo so Ce l'ho pregato Ma mi fa troppo ridere Quando si viene acceso Dritto come un salame E rialzati Sto per sonno Ci metto una vita a rialzarsi Eccomi Sto bene Sto bene Tranquilli Lo so che eravate preoccupati Aspettate un attimo È ridicola questa cosa Allora, io non ho coltellini Non so neanche se ridere Da quanto è ridibile Io non ho coltellini Voi non avete modo di scappare in auto Come la giochiamo qua Ditemi voi Ma poi perché stanno giocando così? Cioè, se io fossi in serio Li avrei massacrati tutti da dieci minuti No, avresti già vinto da venti minuti Cioè, in cinque minuti avresti vinto sta partita Ci dovevano capitare questi Capito? Continuiamo Così tutto il tempo Aspetta, magari c'è un coltellino qua vicino In zona, no? Però questo qui ha preso la trappola E io ho trovato giusto un coltellino Tiragliene uno Così per cattiveria Beh, cerca di renderti il colpo Vabbè Eh, dietro c'è anche l'altro L'hai visto? Sì È tra cui c'è i spugli Non c'è un coltellino? È uno da emergenta Dai, no Però non possiamo lasciare scappato qua È più morto che vivo Smettila che tanto non colpisci Lo vedi che sei lontano Non puoi fare nulla Aspetta Vieni, 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 vieni Questo è stato fantastico Io non l'avevo capito Quello che volevi fare Non l'avevo capito Che figuraccia, caro mio Che figuraccia Steph, c'è un altro Su, almeno finiamo bene questo gioco Questo game Allora Ah, che emozioni Che emozioni Guarda che ogni tanto Cioè, venerdì 13 Ti regala emozioni Che davvero pochi giochi No, sì, sì, sì Davvero pochi giochi Posso vederti queste cose Sì, sì Allora Andiamo Vediamo qua No Dacci dei coltelli Sappiamo anche dov'è Tipo in questa zona Non li possiamo fabricare Spezza la lancia Ma vorrei fare Fai dei coltelli di legno Ti giuro Vorrei fare qualsiasi cosa Pur distendere questa gente E mi devo trattenere Perché secondo me Per come se la sono giocata male Avresti ucciso anche quelli in macchina Cioè, avendo tanti coltellini Se io avessi avuto infiniti coltellini Li ammazzavo tutti Sì, assolutamente Anche secondo me Sono praticamente sicuro di questa cosa Però i coltellini Sono tutt'altro che infiniti Anzi, ne ho davvero troppi pochi C'è da dirlo E di conseguenza va così Perfetto, perfetto, perfetto Almeno uno ci siamo presi Almeno tre, Steph Lo so Almeno tre Uh, bene Ma magari riappaiono Siamo a due, siamo a due Che fai? Che stai a fare adesso? Ha riparato la luce Ok, bravo E mi ha sparato Ecco qua Così Ecco qua Tu vedi uno Giro, tranquillo E lo spari Ma è pure senza armi questo qua Ma davvero Che tristezza che fai Dimmi che c'è un coltellino Guarda amico Devi sperare che non trovo un coltellino Mi sta pure parlando? No, non ascoltiamo ragioni I need a knife And you are dead Run if you can Gliel'hai detto Almeno l'hai avvisato Almeno lo sa Esatto Così è una scontra Stavo dicendo, Steph C'è resta il manco Però non devo mancare Neanche un colpo Sai Quanto mi farà Panicare questa cosa? Ho trovato il coltello Uno Per iniziare Non l'ha preso Stai scherzando? Ce lo vedi che è a posto Ma Ora sì Ora sì No No Non dovevo farmela questa cosa a fare Ci ho messo due ore a trovare quel coltellino E me l'ha sprecato così E poi uno si è buggato e non te l'ha preso Quindi in realtà tu non gli hai fatto danno Uno L'ho visto un altro E l'ho visto anch'io Vai 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 dentro a casa Are you my friend? No Ma poi cosa vuole fare che è da solo? Non lo so Non si può uccidere Lui pensa che sia un suo amico solo perché non l'amazzo E che in realtà mi sta facendo impazzire Porca miseria Ho voglia di ucciderlo Steph Anche io Non sai quanto mi sta trattenendo dal cliccare tasto Sto perdendo davvero la pazienza perché non vanno bene queste cose Non si fanno Due minuti No Però non è giusto perché c'è solo colpa del fatto che non si trovano coltellini Aspetta Ce n'è uno Sì per forza Perché player non ce ne sono quindi un coltellino Sì 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 Non so se è abbastanza ferito Però potrebbe No nel caso lo finisci con l'altra Secondo me non mi ha capito cosa sto facendo È vero? Sì anche secondo me Perché Vai Vai Steph Con due lo ammazzi per forza Con due lo ammazzi per forza Vai 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 che ce la facciamo a finire Dai Steph Allora 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 Calmi tutti Sì 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 Non posso rischiare Calmi tutti perché non puoi sbagliare Niente e nulla Altri coltellini per darmi più sicurezza No vero? Non sia mai Giusti giusti Ok per nostra fortuna comunque è ferito quindi va molto lento Mi avvicino Ok Ok Sto osservando anche i suoi movimenti per capire se fa movimenti improvvisi Eccolo sì sì Va un po' zig zag L'ha capito L'ha capito Steph Allora gli faccio venire un infarto Lo acchiappiamo Lo fa Aspetto che si liberi Ok Ok Perfetto Però gli sale il panico diventa molto più difficile di schivare Il personaggio gli corre meno Tante cose importanti Vai 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 E adesso Ok Apri a No mi è partito No Steph ma non mi puoi far Fede mi è partita a caso L'ho mancato Sei pessimo Steph eh Fede Non mi puoi sbagliare proprio È l'ansia Ma non mi puoi sbagliare sul finale Accidenti a te però eh Hai provato un altro Eh certo perché sei talmente sfigato Che te li fa trovare pure il gioco Ma un altro ancora Per la Per tristezza Ok Stai scadendo il tempo Cioè Adesso mai più Mai più Mai più totalmente Tutora Ma Si è flippato Ok Ok Buongiorno Jason eh Grazie alla buon'ora Te l'ho detto che stava scadendo il tempo Ho pure colpito Hai sentito Ho sentito il pic No nozione Allora Ne ho mancato tre Si può dire Che si potrebbe anche fare Ma comunque Data la scarsità Di coltellini trovabili È davvero davvero complicato Quello c'è da dirlo Beh ragazzi Se vi è piaciuto Lasciateci un bel like E sarà la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da descrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.